Buongiorno, ben arrivati! Iniziamo con i nostri appuntamenti settimanali di 10 minuti. Allora, dove siamo? Siamo allo scampolo dei fratelli Antonioli, negozio di tessuti. Allora, tessuti di qualsiasi tipo, sia per abbigliamento che per arredo casa e abbigliamento confezionato. Abbiamo due punti vendita, uno a Rovigo, dove siamo ora, siamo proprio di fronte al centro commerciale Aliper, in Viale Porta Adige numero 44. L'altro punto vendita è a Este, in Via Teste, in provincia di Padova. Allora, iniziamo subito. Allora, casacchina della Wendy Trendy, guardate che modello particolare. Allora abbiamo, è un mistolino, è con il taglio, vedete, un po' più corto davanti rispetto a dietro, va giù svasatina, quindi va giù molto morbida e abbinato qua abbiamo anche il pantalone. Il tessuto è, vedete, è un tessuto che fa una leggera, è leggermente stropicciato, ma proprio poco poco e poi fa questa righettina lucida, tutto tinta su tinta, nero su nero. E poi abbiamo abbinato anche il pantalone. Il pantalone è una taglia unica ed è, vedete, arriva alla caviglia. Dopo, se siete alte, naturalmente vi sarà un po' più corto, però è un modello comunque che va portato così. Allora abbiamo elastico in vita, allora la parte davanti, vedete, è diritta, finta cerniera e dietro abbiamo l'elastico con questa tascona. È molto molto particolare questo complettino, vedete. Poi qua ho messo una collana in caociu, allora abbiamo tutti i fili di caociu in nero e dopo c'è questo triangolino in ecopelle in bianco e facciamo un po' di stacco dal tutto nero. Molto bello questo complettino. Poi, allora, questo è un, potete usarlo, allora, se la portate abbottonata diventa un vestito, una camicia lunga, vestito che con una bella cinturina in vita, voi siete a posto. Altrimenti, portandola aperta, può diventare tipo uno spolverino da mettere sopra, anche ad esempio sopra al completo che abbiamo appena visto. Allora, facciamo così, così, vedete, e dopo abbiamo il nostro bel pantalone e guardate che completo tutto in bianco e nero che esce, meraviglioso. Questo è proprio una camicia spolverino che potete mettere comunque su, un po' su tutto. Ed è in, anche questa è un misto cotone, vedete, è un po' trasparentina e abbiamo queste righe, questa in nero, proprio bianco e nero, vedete, è proprio la classica camicciona, vedete, con dopo gli spacchi un po' arrotondati, abbiamo il nostro bel polsone e questa è molto molto pratica da portare. Poi, camicia in lino e viscosa. Allora, qua abbiamo la camicia che è una taglia unica, dopo qua, vedete, io adesso l'ho anodata, però voi potete anche portarla tutta lunga, normale, abbiamo sempre gli spacchi arrotondati dai lati e la particolarità è il collo e la tasca in viscosa con disegno animalier, da fare un po' di contrasto dal tutto beige. E poi ci sono anche queste, vedete, queste striscioline di tessuto, sempre in animalier, che voi potete arrotolare la manica e portarla, vedete, chiusa con bottoncino. Questa camicia possiamo metterla con questo pantalone, che è meraviglioso, anche questo, sempre della Wendy Trendy, ed è un tessuto leggerissimo, guardate, quindi freschissimo, sempre lavorato, goffrato, con la righettina lucida, però in tinta su tinta. Si restringe leggermente sotto, vedete, qua c'è una cucitura, che restringe leggermente il pantalone, quindi una volta indossato vi fa l'effetto tipo a ovetto. E facciamo, vedete, il nostro bel completino così, tutto in beige e marrone. Ok. Poi tessertina in cotone, maglina di cotone, molto molto ampia, guardate, veste tantissimo, addirittura la potete portare anche come mini vestito, guardate che simpatica che è, con questo cagnolino, che ha tutti gli occhiali contornati da svaroschini, meraviglioso. Con cosa la possiamo mettere? Possiamo mettere con questo pantalone, che è un pantalone in cotone, è un cotone abbastanza croccante, perché è abbastanza sostenuto, e abbiamo dopo sul davanti queste grandi tascone applicate, culiss in vita con elastico. Adesso io sotto l'ho arrotolato, però è un pantalone comunque che è abbastanza lungo, e dietro abbiamo tasca applicata anche dietro. E facciamo il nostro bel completino così. Tutto taglia unica, sia la t-shirtina che il pantalone. Ok. Adesso vi faccio vedere delle camicine che sono in chiffon di seta e viscosa. Sono, vedete, leggerissime, morbidissime, taglia unica anche queste, e volendo si possono usare anche da cerimonia, perché sono molto molto eleganti. Allora abbiamo il collettino, tutto il girocollo, tutto contornato da questa rouge, poi abbiamo l'apertura a goccia, e abbiamo questo laccetto che vi tiene chiuso il girocollo, diciamo, però se voi volete potete anche scioglierlo e portarla più scollata. Poi alla fine della manica, che è una manica lunga, abbiamo elastico, vedete, è un po' più corta davanti rispetto a dietro, ed è morbidissima. Guardate che svolazzante che è. Allora, questa camicina abbinato ci sarebbe questo pantalone qua, che è sempre in seta e viscosa. È un pantalone modello a palazzo, molto molto morbido. Allora, vedete, la gamba va giù abbastanza diritta. Abbiamo le tasche, poi abbiamo le pants, davanti il fascione è diritto e dietro c'è l'elastico. Qua ho abbinato questo rosso meraviglioso che riprende il rosso della camicia. Poi anche queste camicie qua potete portarle pizzicate, allora le portate sopra il pantalone, oppure le potete portare pizzicate all'interno del pantalone, perché sono morbidissime, dopo le portate come vi piace e come vi sentite meglio. Allora, la stessa camicia c'è anche con le gradazioni del marrone, marrone, rosa, verde, guardate che delicatezza che hanno questi colori e questi fiori. Allora, questa l'ho abbinata con sempre pantalone a palazzo in seta e viscosa e qua ho messo questo beige rosato che è delicatissimo. Guardate che meraviglia di completo, molto molto delicato, molto raffinato. Poi, sempre stando sulla stessa tipologia di camicia, c'è anche questa variante qua, con il blu, perché adesso abbiamo molta richiesta anche di blu. E allora, ecco, con il nostro bel pantalone, sempre a palazzo, sempre un po' più spiritoso. Allora abbiamo qua il nostro slupino con le orecchie al vento, guardate che simpatico che è, con i profili rossi, spalmature in dorato. E questo l'ho abbinato a questa gonna, che è sempre una gonna della Wendy Trendy, guardate che bella, è allora tutto cotone, è una gonna che anche qua abbiamo comunque le nostre tasche, culis ed elastico in vita e dopo ci sono queste arricciature, una un po' più in su, una un po' più in giù e questo taglio particolare sul davanti, dietro invece è semplice, va giù solo svasatina. Guardate che bello che è con questo, con questa t-shirtina di Snoopy. Poi, camicia, allora camicia in cotone, puro cotone, guardate qua che ampiezza anche qua che abbiamo. Allora, questa è una camicia che potete portare chiusa così, con un pantalone sotto, tipo ecco anche un pantalone così, che è un pantalone taglia unica anche questo, è in cotone, è un cotone sempre un po' goffratto di base, guardate la gamba è larga ma dopo viene chiusa sotto con queste cuciture qua. Abbiamo anche qua le nostre tasche e possiamo fare un completo così. Allora, tutto taglia unica qua eh. O se no la camicia la portate aperta mettendo sotto una canottina e la usate tipo giacca camicia o tipo spolverino, bellissima. Mettete sotto una canottina chiara oppure sempre in verde da riprendere anche il colore del pantalone ed è un altro bel completino spendendo poco. Mi raccomando, qualsiasi cosa abbiate bisogno voi chiamate per non so se volete le misure, se volete sapere i prezzi, se volete rivedere i capi senza nessun problema voi contattateci, mi raccomando. Vi faccio vedere l'ultima cosa perché è un vestito che è meraviglioso. Allora, settimana scorsa l'ho presentato sempre in nero però tutto pieno di ricami ed era con lo scollo all'americana, quindi le spalle scoperte. Adesso invece sono riuscita a trovarlo anche così con la manica. Allora è un battista di cotone, quindi un cotone molto molto leggero. Vedete dopo sul davanti abbiamo il laccetto che tiene chiusa la scollatura e abbiamo tutti questi nervetti cuciti. Poi c'è cucitura in vita, la manica è una manica lunga e tutta dopo finita con questo abbassamento ricamato e tutto traforato. Bellissimo, ricamato con questo cordoncino, con questo filo di cotone dorato e dopo lo stesso motivo lo riprendiamo anche sul sotto del vestito perché c'è questa balza con questo ricamo importantissimo, bellissimo. Questo è bello portato così oppure anche con una bella cintura in vita, meraviglioso. Mi raccomando per i prezzi chiamateci, se volete che vi mettiamo da parte qualcosa mi raccomando contattateci. Io vi ringrazio, vi auguro una buonissima giornata, ci vediamo domani. Grazie a tutti e grazie ancora. Buongiorno, ben arrivati. Siamo allo scampolo dei fratelli Antonioli, negozio di tessuti di qualsiasi tipo. Trovate qua da noi sia tessuti per abbigliamento, sia tessuti per aredo casa e abbigliamento confezionato. Adesso iniziamo con la nostra direttina di 10 minuti. Dove ci trovate? Siamo a Rovigo, in Viale Porta Adige numero 44. Siamo proprio di fronte al centro commerciale Aliper. L'altro punto vendita è a este, in via a teste, in provincia di Padova. Allora, iniziamo subito. Allora, camicina. Allora, questa è una camicina, vedete, con taglia unica intanto. Vedete, veste comunque abbastanza, poi lei si adatta. E la particolarità è che abbiamo la manica con questa apertura qua, tutta contornata da pizzo macramè. Poi finisce la manica con questa balza, sempre dopo tutta contornata da macramè. E abbiamo dopo anche tutto macramè sul davanti e sul dietro della scollatura. Guardate che meraviglia di camicina. Guardate? Bellissima. Allora, con cosa la abbiniamo? La abbiniamo con pantalone, sempre taglia unica. È un pantalone comunque che adesso vi faccio vedere. Allora, avendo l'elastico e poi il tessuto è tutto elasticizzato, guardate quanto cede. Quindi dopo anche questo pantalone si adatta al vostro corpo. Allora, abbiamo le tasche. Dopo vedete come va giù. La gamba è molto ampia, per dopo va giù leggermente facendo, si restringe leggermente sotto, che fa questo effetto un po' tipo a palloncino sulla parte sotto. Allora facciamo, guardate che bello, la nostra camicina bianca blu con il nostro pantalone bianco. Oppure questa camicina sta bene anche con un jeans, sta bene anche con un pantalone blu. Dopo voi lo abbinate con quello che gli può piacere di più. Poi camicina in setta e viscosa. Queste sono le nostre camicine che ne vendiamo tantissime. Di queste abbiamo tutti i colori. Guardate, allora, è una taglia unica anche questa, è setta e viscosa. Quando voi le indossate, vedete la spalla, è una spalla scesa, quindi le spalle vengono coperte. Poi, alla fine c'è questa rifinitura qua con costina in maglia. Va portata dopo bella blusante, oppure la potete portare anche un po' pizzicata da un lato. Allora, adesso io qua ho messo la collana in cauciù nera, per fare un po' di contrasto dal giallo. E dopo abbiamo questi anellini in metallo dorato. Allora, se volete, c'è anche il pantalone. Questo pantalone, che è lo stesso colore della camicina, vedete, è sempre lo stesso giallo. È un pantalone in cotone, anche questo taglia unica, veste comunque tanto. Abbiamo anche qua le nostre tasche e sotto, vedete, anche qua la gamba è molto molto ampia. Il cotone è un cotone leggermente goffrato, non è liscio. E sotto abbiamo queste due ripresine, sia sul davanti che sul dietro del pantalone. E quindi, vedete, la gamba è molto ampia, ma dopo si restringe leggermente sotto. E facciamo tutto il nostro bel completino giallo, staccando solo con la collanina nera. Ok. Adesso vi faccio vedere un completo della Wendy, che è meraviglioso. Allora, abbiamo la camicina, che come vedete è smanicata. Allora, è un po' più corta davanti rispetto a dietro. È un mistolino, lino cotone. Dopo, vedete, la base è sempre anche qua un po' goffrata. E dopo c'è questa lavorazione con questa righettina in lucido, che fa un po' di contrasto. E dietro abbiamo a bottonatura. Leggermente svasatina. E abbiamo anche il pantalone abbinato, sempre dello stesso tessuto. Guardate, il pantalone, anche questo, è bello ampio. Dopo si restringe leggermente sotto. Anche qua abbiamo le nostre tasche. Elastico in vita. E guardate che completino. Poi ho messo la collana in cauciu e perle, dello stesso colore della righettina lucida. Allora, lo stesso completo, che adesso abbiamo visto in bianco avorio, c'è anche in beige. Eccolo qua. Stesso modello. Sempre la... Aspetto che tiriamo via l'etichetta della Wendy. Comunque, ecco qua. Allora abbiamo sempre la nostra camicina svasatina, con la righettina lucida. E dietro, sempre, la nostra bottonatura. Vedete? E qua ho messo la collana nera. Anche qua, da fare un po' di contrasto. E anche qua un altro bel completo. Mi raccomando, per i prezzi, voi chiamate. Qualsiasi cosa vogliate sapere, chiamate. Mandateci messaggi su WhatsApp, vi diamo le misure, vi diciamo i prezzi. Se volete rivedere qualcosa, volentieri, vi facciamo rivedere tutto quello che volete. E anche se avete, insomma, altre richieste, voi chiamate. Poi, questa magliettina qua, allora, anche questa taglia unica, è una maglia di cotone. E sotto, poi, è tutta bordata con questa balzina in battista di cotone. Vedete che fa tutto il giro del sotto della nostra t-shirtina. Allora, abbiamo anche abbinato il suo pantalone. Pantalone che è sempre in battista di cotone. Guardate quanto ampio è. Guardate la gamba, quanto è larga. Abbiamo elastico in vita, quindi dopo lui si regola. Tasche, anche qua. E, essendo battista, che il battista è un cotonino trasparente, sotto c'è anche la fodera. Quindi il pantalone è foderato sino al ginocchio. Dopo qua ho messo la collana con fili di cotone, con il beige e marrone. Ma un bel completo, pratico da indossare, freschissimo, perché è tutta fibra naturale. Però, nello stesso tempo, è anche elegante. Questa t-shirtina qua c'è anche, anzi c'era, in nero. L'ho venduta ieri, scusate. E mi è rimasta in beige adesso. Lo stesso completo c'è anche in beige. Il nero è stato venduto ieri. Vedete, il nero è sempre, chissà perché, ma anche d'estate è sempre uno dei colori che sta andando di più. E, guarda caso, adesso vediamo il nero. Allora, abbiamo questa maxi maglia in cotone. Guardate che ampiezza che fa. Allora, abbiamo la maglia che va giù bella morbida, un po' più corta davanti rispetto a dietro. E dopo abbiamo questa tascona qua con questa fantasia, con queste scritte di giornale. E dopo viene anche tutta bordata, vedete, sul sotto. Solo sul davanti però. Dietro è tutta nera. Allora, qua dopo ho messo questa collana in legno in bianco, da riprendere il bianco della fantasia che c'è. E allora la possiamo mettere con un pantalone nero così. Allora, questo pantalone abbiamo sempre elastico in vita, quindi lui dopo si regola, perché è taglia unica anche questo. Dopo sul davanti, vedete, abbiamo questa tasca che, vedete, è sospesa. E poi abbiamo l'altra tasca invece normale di qua. Dietro, tasche applicate. Anche questo può va giù leggermente più stretto. Adesso qua noi l'abbiamo un po' arrotolato, però un pantalone comunque molto lungo, eh. E allora facciamo il nostro completino così. Se non volete il pantalone nero, si può mettere tranquillamente anche un bel pantalone bianco. Se volete fare ancora più contrasto, così riprendete anche il bianco della collana. Ok. Poi, stando sempre sul bianco e nero, guardate questo pantalone. Anche questo, taglia unica, è un pantalone in cotone. Abbiamo elastico in vita. Anche qua abbiamo le nostre tasche. E dietro, tasche applicate. Anche qua, vedete. Va giù sempre la gamba un po' più stretta. Dopo voi la potete portare arrotolata così, oppure tutto sorrotolato, perché anche questo è bello lungo. Cotone, quindi freschissimo. Allora, lo possiamo mettere con questa magliettina in cotone. Vedete? Allora, guardate che strana che è. Allora, il sopra è semplicissimo, però dopo sotto, vedete, c'è questa cucitura, questo inserto. E dopo è tutto tagliato così, un po' particolare, con queste punte. Questa indossata è bellissima. Avevo anche le canottine di questo modello qua, le ho finite tutte. Avevamo tutti i colori. Adesso è rimasto questa, però se avete richieste particolari di qualche altro colore, sia sulla magliettina che sulla canotta, voi chiamate che ve le procuro. Questa è bellissima. E lo facciamo completino così. Dopo, soprattutto, se volete, possiamo mettere anche questo smanicato, che è uno smanicato in misto cotone, dopo c'è anche un po' di elastam dentro, guardate che simpatico. doppio petto, dietro abbiamo questo laccetto qua, quindi quando voglio indossatelo potete anche, potete anche legare il laccetto attorno alla vita, così lo sfiancate anche di più. Però a me, invece, piace più tutto sbottonato, perché se noi lo mettiamo sopra a questa t-shirtina qui, guardate, facciamo così. Allora, così, e poi il nostro pantalone in bianco e nero, guardate che completino che vi esce. Bellissimo. Adesso vi faccio vedere gli ultimi due cose, perché stiamo già, è già scaduto il tempo. Guardate questi vestiti, allora sono setta e viscosa. Adesso questo è con il fucsia e il verde, verde smeraldo, guardate che abbinamento di colori meraviglioso. Taglia unica, c'è questa cucitura, vedete, la scollo a vis, sia sul davanti che sul dietro. La spalla poi è scesa, dopo quando voi lo indossate, vedete la manica, arriva comunque al gomito. E sotto, bello ampio. Allora, questo c'è così e c'è anche in blu e tinta biscotto. Guardate che meraviglia. Qua poi ho abbinato anche la collana in caociu, guardate che bene che ci sta. Guardate, questi qua sono stupendi. Praticissimi, freschissimi, seta e viscosa. Quindi tutta fibra naturale. Allora, per oggi abbiamo finito il tempo. Io vi ringrazio e ci vediamo domani. Grazie a tutti e buona giornata. Buongiorno, ben arrivati. Siamo allo scampolo dei fratelli Antonioli. Negozio di tessuti di qualsiasi tipo, perché qua da noi trovate tessuti sia per abbigliamento, tessuti per eredo casa, abbigliamento confezionato. Allora, abbiamo due punti vendita. Uno a Rovigo, dove siamo ora. Ci trovate proprio di fronte al centro commerciale a Lipper e siamo in viale Porta Adige numero 44. Invece l'altro punto vendita è in via Teste a Este in provincia di Padova. Allora, iniziamo subito perché facciamo i nostri dieci minuti soliti, che sono tutti i dieci minuti che noi facciamo dal martedì al venerdì e vengono messi direttamente su Facebook questi dieci minuti tutti i giorni. Altrimenti dopo al venerdì vengono tutti raggruppati e messi su YouTube. Però se volete vedere proprio una cosa immediata dovete guardare su Facebook tutti i giorni, dal martedì al venerdì. Allora, iniziamo. Allora, pantalone in jeans. Allora, è un pantalone taglia unica. Abbiamo anche qua tasche. C'è davanti, ci sono delle pants per dare ampiezza alla gamba. Vedete, la gamba va giù comunque molto molto morbida. Poi sotto abbiamo risvoltone di contrasto. Allora, il jeans è, vedete, azzurro col fiore bianco. E sotto invece il contrario, bianco col fiore azzurro per fare un po' di stacco. Ecco, allora, è lavorato tutto, vedete, con questo fiorellino che è proprio lavorato su tessuto, non è una stampa. E dopo ogni tanto, vedete, ci sono questi filetti da dare tipo il jeans un po' usato, diciamo, la moda che è adesso del jeans un po' strappato. Vedete che meraviglia che è. Allora, questo pantalone c'è con la versione così in azzurro e poi c'è anche con il fondo un po' più scuro. lo vedete un po' più sulla blu, ma stesso modello. Anche questi sono dei pantaloni che vestono tanto, perché allora abbiamo elastico in vita, vedete, dopo loro si adattano. Ok, allora lì possiamo mettere anche con una semplicissima maglia, così, in cotone. è sempre una maglia che è taglia unica. Allora, vedete, va giù svasatina, sotto è tutta taglio vivo ed è un po' più corta davanti rispetto a dietro. E allora, guardate, mettiamo con il nostro pantalone in jeans lavorato e la nostra t-shirtina semplicissima, così. Guardate che carino che è. Questa t-shirtina sta bene su tutti e due, sia su questo blu che su quello in azzurro. Poi, adesso vi faccio vedere altro pantalone. Allora, pantalone in cotone elasticizzato e anche questo è un pantalone che veste, vedete, si adatta tantissimo perché se noi apriamo la culisse che c'è in vita, guardate, anche questo cede, cede molto e il tessuto è molto, molto elasticizzato. Quindi, dopo, anche questo si adatta tantissimo. Allora, abbiamo culisse in vita, abbiamo le nostre tasche e poi ci sono questi inserti in camouflage che li troviamo all'interno della tasca, li troviamo poi, vedete, anche sulle gambe. Poi ci sono degli inserti in pizzo macrame, ci sono degli inserti in paillettes. Vedete che bello che è, che particolare è questo pantalone. Poi il fondo è lavorato stropizzato, non è un cotone liscio, ma vedete, ma è goffrato. Allora, questo lo possiamo mettere con, o con una semplice magliettina bianca, tipo quella che abbiamo appena visto, anche volendo, oppure con questa maglia che è sempre in cotone, taglia unica, vedete, guardate quanto veste, anche questa, e facciamo completino così. Allora, qua abbiamo cotone, abbiamo queste scritte con questa spalmatura argento che riprende l'argento che abbiamo sul pantalone, le paillettes che abbiamo sul pantalone. Ok. Qualsiasi cosa abbiate bisogno, il numero che vedete, voi mi raccomando, mandateci messaggi su WhatsApp, però mi raccomando, non su Facebook, perché su WhatsApp è una cosa già più immediata, vi rispondiamo, insomma, vediamo subito i messaggi, invece su Facebook un po' meno, quindi mi raccomando, WhatsApp oppure chiamate direttamente in negozio. Allora, andiamo avanti. Questa camicina è una camicina tutta in viscosa, allora, abbiamo viscosa sulla parte sopra e sulle maniche, che dopo, vedete, le maniche hanno questa apertura alla fine vengono chiuse con questo laccetto e poi sotto è tutta bordata con chiffon. Vedete che modello particolare che è, va giù con la punta da un lato e anche queste indossate sono meravigliose. Adesso mi è rimasta solo in rosso, perché avevamo tutti i colori, è rimasta rossa, però queste qua ve le riusciamo a procurare, perché sono, insomma, erano appena arrivate, quindi penso di riuscire a trovare ancora tutti i colori. Dopo qua ho messo la collana in caucciù con i dischetti sul rosso e poi la possiamo abbinare, facciamo tutto il nostro completino in rosso, la possiamo abbinare con questo pantalone, che è un pantalone in cotone, allora, anche questo, taglia unica, abbiamo elastico in vita, quindi dopo lui si adatta. Davanti, vedete, abbiamo questi falloncini per dare ancora più ampiezza alla gamba, guardate la gamba quanta è larga, anche qua abbiamo le nostre tasche, dietro invece, vedete, è più semplice, e guardate che completino esce, tutto in rosso, c'è solo un po' di stacco col cordoncino in caucciù della collana. Allora, pantalone tutto in cotone, anche questo elastico sulla parte dietro, che dopo, vedete, anche questo si adatta, e comunque guardate anche questo quanto riesce a vestire. davanti abbiamo invece il fascione liscio, e la gamba, guardate, va giù molto molto ampia, guardate quanto, quanto larga è sotto, con questo bellissimo abbassamento. Allora, questo pantalone c'è in blu, con la fantasia in blu così, e c'è anche in verde, stesso modello, identico, in queste due versioni qua di colore. Allora, il blu lo mettiamo con questa magliettina, che è una maglia tutta in cotone, guardate che carina, con questo taglio un po' particolare, vedete, con la punta da un lato, poi la punta più lunga dall'altro, dietro, vedete, va giù svasatina, abbiamo anche qua, guardate, la tasca, e facciamo un completino così. Poi, lo stesso modello, ce l'abbiamo anche sulle canottine, guardate, quindi chi non vuole la manica, abbiamo anche lo smanicato, e guardate, qua ho messo il verde. Vedete, il modello è identico, sempre con la taschina, sempre con le punte dai lati, e qua facciamo questo bel completino qua, con il verde. Dopo, volete colori particolari, voi basta che chiediate. Poi, guardate questa t-shirtina, con questa ballerina, e dopo ci sono tutte le farfalle, guardate che meraviglia. È taglia unica, è in cotone, e la possiamo mettere con il pantalone, che è sempre taglia unica, pantalone in cotone, con faldoncini davanti, sempre bello ampio, è come quello rosso che abbiamo appena visto, tasche, anche qua, e facciamo il nostro bel completino così, guardate. Oppure, con questo pantalone qua, possiamo mettere anche questa di t-shirt, sempre in cotone, sempre in taglia unica, vestono comunque abbastanza, guardate che simpatica anche questa, con questo cuore qua particolare, con questa spalmatura tutta brillantinata. Ok. Poi, allora, questo è un completo, in maglia, allora, è una maglia, vedete, con lavorazione un po' particolare. Allora, abbiamo la parte sopra, che è da un lato più corta rispetto all'altro, e dopo qua, quando voi la indossate, fa un po' di blusante, è bellissimo indossato questo modellino qua. Dopo, vedete, lo scollo è a barchetta, per una volta dopo indossato, fa un leggero movimento sul davanti. E invece, il pantalone, guardate, allora, il pantalone è sempre una taglia unica, abbiamo comunque l'elastico in vita, poi si adatta, e guardate, abbiamo questo spacco, quindi quando voi lo indossate, escono le gambe. fantastico anche questo, però bisogna proprio che lo veniate a provare, perché è meraviglioso. Allora, i colori sono il rosso, il beige, è una maglia praticissima, è morbidissima, proprio non si stropizza, pratica assai, e la tinta è un marrone, sì, marrone, marrone tabacco, anche qua, questo è l'altro colore. Bene, allora, per oggi io vi ringrazio, vi auguro una buonissima giornata e ci vediamo domani. Grazie a tutti, arrivederci, grazie. Buongiorno, ben arrivati allo scampolo dei fratelli Antonioli, negozio di tessuti, tessuti per abbigliamento, tessuti per arredo casa e abbigliamento confezionato. Siamo arrivati a venerdì, e quindi oggi, ultimo giorno di appuntamento settimanale, perché come voi sapete, noi qua a Rovigo facciamo tutti i giorni una direttina di 10 minuti, dal martedì al venerdì, che dopo vengono messe subito su Facebook. E poi al fine settimana, quindi al venerdì, vengono tutti raggruppati e messi su YouTube. Dopo invece, abbiamo due punti vendita, abbiamo uno a Rovigo, che siamo di fronte al centro commerciale a Liper, in Viale Porta Adige, numero 44. L'altro punto vendita è a Este, in via a Teste, in provincia di Padova. Allora, noi qua a Rovigo, direttine di 10 minuti tutti i giorni. Invece, nell'altro negozio, allora, martedì e giovedì, fa una diretta mia cognata, presentando sempre l'abbigliamento confezionato, come facciamo noi. E invece, il mercoledì e il sabato, mio cognato Francesco, vi presenta i tessuti. E quindi, vedete che meraviglia di tessuti che abbiamo, e anche a prezzi stracciatissimi. Allora, adesso iniziamo subito con il confezionato. Allora, camicina, in misto cotone, taglia unica, Allora, abbiamo, vedete, del macramè, che contorna il giro della manica, e dopo abbiamo tutto macramè anche sul davanti, e bottoncini ricoperti sempre di cotone. Dietro invece è semplice. Allora, la possiamo mettere questa camicina anche con un semplice jeans, perché è una camicina bianca, la mettete un po' su tutto. Oppure, la vedrei bene, abbinata con questa gonna, tutta in sangallo di puro cotone, è una gonna a valse, molto ampia, tutta ricamata, e sotto poi, visto che è uno sangallo con base di battista, quindi è un po', vedete, trasparentino, comunque sotto abbiamo la nostra foderina, sempre di battista di cotone. e guardate che completino vi esce. Tutto in bianco. Allora, poi, se no questa camicina, volendo la potete mettere anche con questo pantalone qua, cavallo sceso, guardate, pantalone a cavallo sceso, è in cotone, cotone leggerissimo, un po' goffrato, come base, dopo abbiamo queste righe qua, che fanno contrasto di colore, anche questo pantalone a tasca, abbiamo le pence sul davanti, da dare ampiezza alla gamba, va giù, leggermente, più stretto, abbiamo le nostre tasche, abbiamo detto, davanti c'è il cinturino liscio, e dietro c'è l'elastico, quindi si adatta, potete metterla anche così, oppure, questo pantalone, potrebbe stare anche con questo smanicato in purolino, che è come quello che sto indossando io, vedete che lo potete portare sia aperto, con una canottina sotto, con una t-shirtina, oppure chiuso e da solo, così, purolino, taglia, questa è una XL, però sono delle XL che non vestono tantissimo, come vedete, io porto una XL, una XL e XL e XL, però vedete, sta comunque abbastanza giusto, adesso questi smanicati mi sono rimasti, allora ne ho uno in bianco, e uno in beige, che vi presento dopo, purolino, quindi freschissimo, bottoncini madreperla, un altro bel completino così, poi, altra camicina, sempre con, allora senza maniche, vedete, smanicata, allora questa ha la base, in viscosa e cotone, lavorata, stropizzata, questa è una tela indiana, in pratica, vedete tutta la lavorazione, tutta goffrata, anche questa, e sul davanti, abbiamo inserto di macramè, abbiamo la collo, a fascia, tutto contornato, da una cappettina di macramè, e poi tutto macramè sul davanti, poi sotto, vedete, si chiude con una ricciatura, e quindi quando voi la indossate, potete portarla anche un po' blusante, dietro è più semplice, allora, con cosa l'avevo abbinata, con questo pantalone, che è un pantalone taglia unica, in cotone, quindi anche questo, bello fresco, e si adatta dopo, anche questo, alle vostre misure, perché, vedete, c'è l'elastico, quindi dopo, lui, si regola, al vostro corpo, vedete che bello, che è questo pantalone, è freschissimo, la gamba va giù, molto molto ampia, e qua, allora, essendo bianco, con la righettina nera, con la camicina nera, ci può stare, anche questo pantalone, poi ha le tasche, e la gamba va giù, bella, bella diritta, vedete, bella morbida, ok, allora, magliettina, in maglia di cotone, taglia unica, e sotto, è tutta bordata, con battista di cotone, dello stesso colore, c'è tutta questa frappa, sul sotto della maglia, che la contorna, poi ho messo la collana, in fili di cotone, con le gradazioni, dal beige al marrone, e la possiamo abbinare, con questo pantalone, pantalone a cavallo, molto basso, taglia unica, anche questo, allora abbiamo davanti, la parte liscia, e dietro abbiamo elastico, quindi anche questo dopo, si adatta, anche qua, abbiamo le tasche, e facciamo un altro, completino così, spendendo poco, mi raccomando, per i prezzi, o qualsiasi cosa, vogliate sapere, se volete rivedere qualcosa, se volete che vi diamo le misure, voi mi raccomando, contattateci su whatsapp, ecco qua, questo è l'altro smanicato, che vi dicevo prima, in beige, che è uguale a quello, che sto indossando io, allora, beige e bianco, sono gli ultimi due, e non so dopo, se riesco a trovarli ancora, con questo modello qua, allora, qua, essendo beige, si può abbinare, beh, un po' a tutto, perché adesso io l'ho messo, con i pantaloni a ovetto, che avevamo tempo fa, vedete, però, sta benissimo, anche con un pantalone, in fantasia così, oppure, potete anche metterlo, con un pantalone bianco, un pantalone beige in tinta, dopo vedete voi, anche con il nero, sta molto bene, allora, qua ho messo la fantasia, di questo pantalone, che è in tutto, in viscosa, quindi anche questo freschissimo, anche questo è un pantalone, comunque, che veste abbastanza, abbiamo le tasche anche qua, e dopo, vedete, avendo messo la fantasia, in bianco e nero, ho messo la collana, in nero, queste collane, sono allora, con filo di cauciù, e poi, abbiamo tutti, questi fiori, che sono in chiffon, chiffon tutto a taglio vivo, e poi, all'interno, vedete, c'è questa perlina, sono molto, molto belle, queste collane, un altro bello, completino, per voi, poi, guardate questa tuta, allora, qua, ho già fatto tutto il completo, allora, abbiamo questa tuta, che è taglia unica, molto ampia, abbiamo anche qua, le tasche, allora, la spallina, vedete, è a sottoveste, e sopra, ho messo, questo coprispalle, che è in setta e viscosa, guardate, morbidissimo, leggero, proprio, guardate, trasparente, e come coprispalla, questo, portate pazienza, è un po' strupicciato, però, adesso, con sto caldo, stagli a stirare, comunque, basta un po' di vapore, e va via tutto, le pieghe, queste sono pratici da portare, anche da lavare, da stirare, non c'è nessun problema, e anche così, è un bel completino, allora, questi coprispalle qua, riesco a trovarveli, in tutti i colori, quindi, se voi fate richieste di un colore, io ve lo trovo, c'è l'azzurro, c'è il rosso, c'è il bianco, c'è il nero, c'è il beige, c'è il blu, c'è il rosso, il verde militare, quindi i colori ci sono un po' tutti, quindi voi chiedete, che noi ve li procuriamo, ok, poi, altra tutina, guardate che bella, che è anche questa, è sempre taglia unica, dopo lei, vedete, si adatta, abbiamo anche qua, le nostre tasche, guardate che meraviglia di fantasia, sopra è sempre sotto vestina, dietro c'è questo elastico, che dopo si adatta, al vostro corpo, guardate, bellissima, bella colorata, e anche questa, potete metterla dopo sopra, con, siete fuori a una serata, potete metterla sopra, con il coprispallo, in questo seta, che abbiamo appena visto, e guardate quanti colori, che ci sono qua, quindi dopo voi scegliete, il colore che volete, come coprispalla, adesso vi presento, due vestiti, allora, vestito in cotone, taglia unica, allora, qua, è tutto a balze, perché, ha un modello, molto particolare, adesso postiamo la collana, così lo vediamo meglio, allora, guardate, ha il collo, ha la camicia, poi c'è l'apertura, sino a un certo punto, e dopo abbiamo, queste fasce lisce, che sono, alternano le balze, bello ampio sotto, la manica, vedete, va giù anche questa, bella ampia, con questo laccetto qua, che dopo voi, ve lo potete regolare, allora, se volete, la portate così aperta, o se no, lo chiudete, e fate un po' di, di arricciatura, poi qua, avevo messo la collana, tinta, tabacco, vedete, da fare un po' di, di stacco, dal beige, bellissimo sto vestito, particolarissimo, e freschissimo, perché è un cottone, molto molto leggero, altro vestito particolare, guardate anche questo, aspetta che è già, allora, abbiamo il davanti, tutto lavorato, con queste, riprese che ci sono, che sembrano come, danno l'effetto di un fiore, giro collo, la manica, una manica corta, con risvoltino, e dietro invece, è più semplice, vedete però, è molto molto ampio, comunque, va giù molto svasato, e anche qua, ho messo la collana, sul marroncino, da fare un po' di stacco, dal beige, vi faccio vedere, anche questa magliettina, allora, t-shirtina, in viscosa, quindi, molto molto morbida, freschissima, spalla ascesa, taglia unica, e dietro, è tutta abbottonata, guardate che bella, dopo ho messo, la collana in legno bianco, per riprendere, il bianco, che c'è, sulla, sulla riga, e la possiamo abbinare, con questo jeans, qua, che è un jeans, anche questo, taglia unica, è morbidissimo, proprio molto, molto leggero, abbiamo elastico in vita, tasche, e guardate la gamba, quant'è ampia, e dopo va giù, e si restringe, leggermente sotto, e anche questo, un bel completo, fresco, pratico, guardate, perfetto, allora, io per oggi vi ringrazio, ci vediamo la prossima settimana, e vi auguro, un buonissimo weekend, grazie a tutti, grazie, e buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.